buon pomeriggio tutti e benvenuti a questo appuntamento export 45 da parte di promos italia io sono simona de musso e mi fa piacere oggi avere qui con me una serie di ospiti che a breve vi introdurrò oggi parleremo appunto di questa tematica relativa al credito fornitore che è da intendere come leva commerciale proprio per aumentare il livello di competitività e posizioni sul mercato estero al fine di ampliare il proprio il proprio business quindi tratteremo i temi relativi alle proiezioni di credito con un focus sul cile che un mercato sempre più attrattivo anche grazie al trattato di libero commercio con l'unione europea interverranno oliver lunghini segretario generale della camera e commercio italiana in cile che mi fa piacere avere di nuovo sui nostri schermi e maurizio rombolà e alessandro panico di eccetera che ringrazio anticipatamente per la loro disponibilità e per aver lavorato sui contenuti del dell'appuntamento odierno giusto una rapido flash un rapido panorama su chi siamo e cosa facciamo promos italia l'agenzia italiana per l'internazionalizzazione della struttura del sistema camerale italiano partecipato da un network di camere di commercio italiane che vanno un po da nord a sud come vedete qua rappresentate nella mappa siamo in grado quindi di supportare le piccole e medie imprese nei propri processi di internazionalizzazione grazie anche al supporto di non camere nazionali non camere lombardia non camere mia romagna quindi un network molto ricco che è in costante evoluzione noi ci muoviamo attraverso diverse diciamo segmenti a partire da un primo livello di know how informazione informazione primo orientamento all'export e verso l'impresa attraverso tutta una serie di strumenti adesso quando non abbiamo il tempo per approfondire però chiaramente se ci seguite sul nostro sito sui social e attraverso la newsletter avrete a disposizione tutte le informazioni la parte mc riguarda invece l'approccio proprio one to one con operatori internazionali attraverso per esempio iniziative di auto going quindi le commissioni commerciali all'estero piuttosto che l'attività di in buyer quindi incoming di operatori stranieri in italia suddivisi per settore abbiamo un ricco calendario già insomma attivo per l'anno corrente e poi la sezione digital che abbraccia tutti quelli che sono i servizi legati al digital export e a tale proposito già da qualche anno come promos italia abbiamo ideato questo progetto digit export che rientra poi nel nel pid nel punto impresa digitale della camera di commercio di milano monza brianzalodi ma poi esteso ai nostri soci grazie a questo portale le aziende hanno a disposizione un set di servizi tra i quali ecco vi metto in evidenza gli assessment digitali che servono per avere un quadro una fotografia del posizionamento online delle aziende sempre in termini di export ci sono tre diverse tipologie di assessment in base agli strumenti che avete a disposizione anche qui non non entro nel dettaglio del di questi strumenti digit expert rientra sempre diciamo nella rosa di questi servizi digitali e qui invece mettiamo a disposizione dei nostri consulenti dei nostri esperti in su tematiche legate sempre al digital export pertanto avete a disposizione 30 minuti di incontri online con gli nostri esperti richiedendo l'appuntamento attraverso l'apposita piattaforma andando a verificare le agende gli slot disponibili ecco qua su questo progetto chiedo un supporto alla collega valeria centinaro ciao valeria grazie per averci raggiunte che sicuramente ve lo sarà saprà raccontare meglio visto che insomma nella responsabile grazie valeria grazie simona buon pomeriggio a tutti io sarò velocissima ma ci piaceva farvi presente questo progetto che proprio coinvolge il cile che come promossi l'italia abbiamo appena vinto un progetto europeo che si occupa del settore sostenibile della sostenibilità ambientale applicata nell'ambito agricolo è un progetto che si è stato è stato appena sviluppato che è stato appena avviato che durerà fino a dicembre del duemila e ventiquattro in cui sono previste una serie di attività per favorire gli scambi e non solo commerciali ma anche di buone prassi di buone pratiche di tecnologie di know how proprio sul tema dell'economia circolare quindi della dell'economia circolare e della sostenibilità applicata al settore agricolo e specificatamente del settore frutticolo l'obiettivo finale è quello di aiutare a il settore frutticolo cileno a crescere ma questo attraverso anche la collaborazione con le imprese italiane quindi ci saranno sicuramente occasioni per parlarvene più nel dettaglio appena si entreranno nell'operatività però ci faceva piacere e farvi conoscere questa opportunità di collaborare con il cile anche attraverso un progetto europeo io ringrazio simona non voglio togliere tempo ai relatori che vi parleranno di questi temi di interesse ma restiamo a disposizione come team di che si occupa con il mio team che si occupa di fondi internazionali e di progettazione europea la mail che vedete e due projects che associo alla promessa italia punto cam con punto it grazie ottimo grazie valeria grazie ci sembrava appunto opportuno e insomma informare le aziende anche di questa opportunità visto il focus sul sul mercato ecco questo giusto un flash di quelli che sono i prossimi appuntamenti dall'agenda che poi sempre in continua evoluzione quindi anche qui consigliamo sempre di seguirci sul sito poi riceverete comunque anche i vari link attraverso la media di follow up e questi nostri contatti diretti ma adesso torniamo al nostro appuntamento quindi a questo punto invito i nostri ospiti a riattivare la propria webcam e microfono eccoci qua oliver buongiorno benvenuto e grazie e poi abbiamo già collegati anche maurizio romola e alessandro panico che sono nello stesso riquadro grazie alessandro grazie a morizio grazie a tutti come sapete ecco questo format che noi abbiamo che chiamiamo export 45 aspettate che ecco sto cercando ecco qua cerchiamo di rimanere sempre nei nostri 45 minuti di talk quindi adesso io darò il via al nostro format poi chiaramente se la discussione prende si anima abbiamo sempre anche disposizione qualche minuto in più per rispondere alle domande delle imprese anzi vi invitiamo fin d'ora interagire con noi avete disposizione nel vostro box box alla vostra destra la sezione chat domande per cui attraverso quel box potete porre le vostre domande noi poi in chiusura le leggeremo potete anche cliccando alzata di mano chiedere la parola sempre in chiusura per chi vorrà intervenire anche a voce potremo attivare il microfono vi ricordo che riceverete poi con una mail di arriverà domani i materiali e la registrazione al webinar a questo punto io faccio partire i nostri 45 minuti e lascio la parola a oliver lunghili che ci aggiornerà un po sul mercato cileno e ci dirà un po cosa insomma quali sono le opportunità in questo momento prego oliver ti diamo la condivisione grazie simona buongiorno a tutti o buon pomeriggio a voi qua sono qua è mezzogiorno quindi sono pregata di buon pomeriggio non so se avete già modo di vedere la mia presentazione se me la confermate ho condiviso correttamente lo schermo sì ok però io sto vedendo me stesso in questo momento e non la presentazione vediamo un po la presentazione forse è il riquadro della webcam allargato potrebbe essersi sovrapposto prova a ridurlo con le frecce grazie per l'assistenza tecnica anche bene quindi come avevamo anticipato compito mio in questa breve introduzione di questo pomeriggio e darvi un'idea dell'attuale situazione macroeconomica del paese del paese cile per chi non conosce per chi non conosce il paese vediamo se così riusciamo a essere più stiamo parlando di un paese dell'america latina che si trova nella parte opposta non a caso per me qua in questo momento è estate mentre per voi è pieno inverno questo cosa significa significa una serie di plus da un punto di vista di scambi commerciali come diceva la collega prima da un punto di vista agroindustriale perlomeno che offre una capacità di commercializzare prodotti ortofrutticoli con un'alternanza alle stagioni che permette di garantire grazie all'estensione territoriale che ho rappresentato qua in una maniera molto limitata sulla parte destra della slide soddisfare le esigenze di un mercato decisamente interessante come quello europeo e lo andremo a declinare più tardi in con alcune piccole considerazioni quindi da un lato abbiamo una geografia che permette una crescita naturale di prodotti delle condizioni giuridiche come appunto il previamente citato accordo il libero commercio tra unione europea e cile che è stato ratificato nella sua versione più aggiornata nel dicembre dell'anno passato che facilita gli scambi tra l'intera unione europea che come vedremo è il più grande investitore in cile per quanto riguarda investimenti esteri diretti e far sì che quindi esista una libera circolazione di merci e servizi capitali tanto quanto esista all'interno dei 27 paesi l'unione europea il tutto come avete potuto ampiamente leggere durante questa mia piccola introduzione è in un paese che risulta essere un paese all'avanguardia come l'hanno definito alcune delle più rinomate e blasonate riviste di economia negli anni recenti in più è l'unico paese che fa parte dell'oxx quindi che ha una garanzia di determinati standard amministrativi di qualità che permettono appunto alle aziende e agli investitori che operano in questo paese di poter bandare ed essere certi di una serie di standard di garanzia di qualità che sono standard globali che cosa fa sì che questo paese sia così tanto appetibile e posizionato da un punto di vista globale o di mappa di dei tragitti commerciali dell'intero globo il fatto che sono stati previsti dalla sua recente trasformazione in un paese tendenzialmente liberale o comunque attrattivo da un punto di vista di servizi una serie di accordi internazionali che coprono in questo momento quasi l'ottanta per cento dell'economia mondiale che vuol dire che più del dell'ottanta per cento dei consumatori a livello mondiale indipendentemente da dove essi siano possono vantare un accordo di libero scambio o un accordo privilegiato per quanto riguarda la loro collaborazione con il cile mi piace citare un accordo che è stato siglato con singapore la nuova zelanda che permetterà una volta che interna in funzioni ai cittadini di questi tre paesi di muoversi liberamente con la sola carta di identità quindi da un punto di vista commerciale benefici ma da un punto di vista amministrativo o di mobilità delle persone e di conseguenza anche della loro dei loro capitale e della loro finanza una certa semplicità unito a un paese tendenzialmente molto digitalizzato e da un paese centrato come abbiamo visto prima su gli intescambi perché nella sua lunghezza nella sua estensione il paese importa molto ed esporta principalmente un paniere di beni composto da 300 prodotti ora per scendere un pochettino più nel dettaglio e capire quali sono questi prodotti che vi stavo menzionando e chiudere un pochettino questa brevissima introduzione che avevo piacere di farvi del paese iniziamo a vedere quelli che sono le esportazioni questi 300 prodotti che il paese tendenzialmente esporta perché non trasforma al suo interno o modifica leggermente cominciamo dalle materie prime quindi dal litio e dal rame stiamo parlando del paese come prima e seconda dotazione in base alla materia prima che stiamo adottando di materiale estraibile nel proprio territorio e quindi parliamo della del litio che oggigiorno è tendenzialmente di interesse di molte società che lavorano in ricerca e sviluppo e del rame essendo il primo paese esportatore di rame al mondo nel cile è pochissimo il rame che viene trasformato che vuol dire che la materia prima viene estratta esportata lavorata e riacquistata come prodotto finito quindi capite bene l'importanza del del commercio e del libero commercio che deve esistere con questo paese che come vi dicevo prima è una lingua stretta di terra lunga quasi 5 mila chilometri per un'estensione massima di 230 chilometri circondata da un oceano e da una catena montuosa che fa sì che ci siano delle condizioni tendenzialmente molto particolari quindi passando dalle materie prime che sono tipiche del nord del paese quindi con zone più desertiche si scende nella parte centrale del paese che è la parte la più grande vocazione agroindustriale il paese esporta principalmente prugne e mele frutti di mare o ricci di mare e conserve di mirtillo è il secondo paese esportatore di salmone sfilettato e congelato e il quarto paese esportatore divino al mondo dato che noi italiani siamo molto fieri di essere il primo paese in questo momento non dimentichiamoci che il cile è il quarto paese e per finire parliamo di frutta secca mi invito la prossima volta che andate al supermercato a guardare l'uva piuttosto le nocciole o le noci sulla filia della tracciabilità del prodotto che acquisite vedrete che sarà tendenzialmente made in cile o made in perù o comunque che la sua origine soprattutto vista l'alternanza delle stagioni è appunto quella di del sud america i punti di forza la ripetuta alternanza delle stagioni che abbiamo nominato prima la forte estensione territoriale quindi che si favorisce un clima agricolo e agroindustriale di estensione e l'attenzione ai prodotti biologici e qua entriamo già dentro l'accordo tra unione europea e cile perché chiaramente per importare sapete che i prodotti dovevano avere una tracciabilità e danno avere dei marchi l'aumento della domanda dei cibi preparati perché sì nel paese vi è una grande attenzione a quelli che sono i ready meals ma come nel consumo del caffè del cioccolato e di alcuni prodotti che per noi sono fanno parte del paniere di beni che consumiamo normalmente e in ultima istanza il trasferimento tecnologico e la transizione energetica su questo ultime due considerazioni prima di chiudere trasferimento tecnologico è qualcosa che mi ha particolarmente stupito quando quando conobi questo paese per la prima volta otto anni fa avevano già un livello di digitalizzazione dei servizi e dell'amministrazione superiore a quello che possiamo dire di avere in italia oggi un esempio pratico per per le aziende una volta che gli viene assegnata una partita iva sono loro che possono in autonomia fare la dichiarazione dei redditi con un modello che si autocompila sulla sito l'agenzia avere un'azienda e aprire un'azienda in cile richiede un giorno la transizione energetica per passare all'ultimo punto è un grande punto di forza di questo paese da un lato abbiamo dei programmi molto ambiziosi che vedono una descarbonizzazione in tappe prevista tra il 2030 e il 2050 presentata alle nazioni unite stiamo parlando di una città da 8 milioni di abitanti quindi in una megalopoli che ha in questo momento una dotazione di bus elettrici che è seconda al mondo dopo un paese asiatico ed è considerato dai dalle big company e nell'in primis per parlare un po di aziende italiane che operano nel settore che stanno lavorando sui processi di transizione energetica che permettono appunto un trasferimento tecnologico ma anche un implementazione di quelli che sono i servizi di produzione di efficientamento tant'è che in alcune parti il paese è definito un laboratorio di energie rinnovabili perché abbiamo impianti fotovoltaici che si sono stati implementati in integrati con impianti di geotermia e con impianti olici quindi effettivamente un vero e proprio laboratorio e con questo io chiuderei la mia brevissima presentazione anche perché abbiamo come è stato ricordato prima poco tempo lascio in calcio qualunque tipo di indicazione dalla website alle reti sociali affinché possiate eventualmente prendere spunti e considerazioni dalla nostra pagina web non so se sono tornato in full screen ho abbandonato la presentazione e non ti sento simone grazie grazie oliver ad ogni modo i partecipanti riceveranno le slide quindi i contatti scusami abbiamo suoi ricondividiamo ancora un attimo la ultima slide se le invia tutti i partecipanti è una slide in calcio il concetto è che ci sono dei dettagli molto più organici all'interno della nostra della nostra pagina web e noi siamo ovviamente a disposizione di delle aziende che sono interessate tramite promos o tramite tramite le altre attività e le aziende con cui vogliamo collaborare l'intento era semplicemente offrire un assist alla presentazione di alessandro spiegando che c'è un clima economico tendenzialmente favorevole a far sì che le aziende di servizi ma anche le aziende esportatrici dirette possono utilizzare vedere cile nel loro radar ma soprattutto farlo con delle garanzie degli strumenti di finanza agevolata che permettono all'azienda semplicemente di realizzare magari una documentazione in più o affidarsi direttamente allo staff di excedera affinché queste attività vengano fatte ma usufruire dei benefici che un trattato di libero commercio avanzato come quello che è in vigore in questo momento tra cile e italia offre alle piccole e medie aziende italiane ed europee alessandro non volevo entrare nella nella tua tematica perché potrei dire cose che non corrispondono però è questo è un pochettino l'intento della della nostra attività quindi lascerei la parola a voi grazie simona da rispondibile grazie grazie a te adesso diamo anche ad alessandro che si sta di condividere lo schermo ecco perfetto vedete sì 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 vediamo ok fantastico noi proseguiamo proprio grazie per l'introduzione proseguiamo proprio riallacciandoci alle opportunità che ci sono in cile e cercando di fare una panoramica generale dando un'idea a tutti voi di cosa sia e come funziona il credito fornitore ma soprattutto darvi la possibilità di capire come questo strumento possa davvero essere un'arma commerciale in più per voi produttori nel momento in cui andate sui mercati esteri cile e altri mercati a proporre le vostre macchine i vostri i vostri beni iniziamo abbiamo preparato qualche slide ma anche qui domande assolutamente poi dopo lasceremo il tempo alle domande faremo adesso una breve introduzione poi un esempio pratico con il collega oggi la necessità le necessità principali di voi produttori ovviamente sono quelli in primis di vendere chiaramente e di riuscire a incassare possibilmente tendenzialmente a vista quindi alla spedizione limitando i rischi dell'esposizione c'è una parte chiaramente di processi amministrativi quando poi si parla di strumenti di pagamento internazionale si ha a che fare con tutta una serie di strumenti e di processi amministrativi complicati che devono essere gestiti e molto spesso le aziende italiane piccole e medie imprese comunque non hanno la forza e la possibilità di avere tutte queste competenze e poi chiaramente la parte forse più importante quella appunto incassando di avere la liquidità prima nella spedizione esca o comunque durante poco dopo per pagare eventualmente fornitori per procedere con gli investimenti interni e per continuare con tutti scusate non so cosa sia successo no no è che non vediamo non vediamo però va benissimo diciamo così dall'altra parte la necessità dell'acquirente è chiaramente quella di ricevere la merce e quella se possibile di pagarla in una direzione di pagamento che gli permetta di ottenere la merce ma di poter di non esporsi in maniera troppo troppo importante subito un'altra necessità è quella di limitare chiaramente gli affidamenti bancari e quindi il ricorso alla finanza locale oggi ci sono diversi mezzi che immagino voi già utilizzate come come le lettere di credito come leasing come factoring quello su cui noi vogliamo concentrarci oggi e spiegarvi che esiste un mezzo che si chiama credito fornitore che dà la possibilità a voi produttori di incassare alla spedizione o comunque entro un tempo ragionevole dalla spedizione l'intera commessa e che permette al buyer straniero di ottenere una dilazione di pagamento commerciale della durata di 2-5 anni questo chiaramente gli permette di far sì che nei prossimi 2-5 anni gli possa fare degli investimenti adesso anche di importi elevati e di dilazionarlo nel tempo spesso si tratta di una cessione consoluto quindi garantita con una copertura assicurativa poi vedremo nel dettaglio come funziona e dà la possibilità comunque a voi produttori di liberarsi anche del pericolo insolvenza da parte del buyer quindi voi produttori incasserete e nei momenti in cui c'è un'eventuale insolvenza c'è comunque un'assicurazione poi dopo vedremo con l'aiuto intermediario avrete la possibilità poi di non essere più responsabili anche da parte di insolvenza ci teniamo a sottolineare che è un'arma commerciale nel senso che questa dilazione se poi fatta da intermediari che fanno attività di trading commerciale viene vista come un debito commerciale nei bilanci del costo del buyer e quindi dà la possibilità al buyer di non essere poi visto o comunque visto nei centrali rischi gli dà la possibilità di mantenere comunque la parte finanziaria libera per eventuali altri finanziamenti a differenza degli altri mezzi di pagamento che abbiamo visto prima ci sono tutta una serie di vantaggi chiaramente rispetto all'easing che adesso sta comunque andando in maniera importante ma la differenza è il fatto che con il credito fornitore il buyer acquisisce la proprietà del bene quindi a differenza del leasing va solo in possesso con il credito fornitore acquisisce la proprietà e questo gli permette chiaramente avendo la proprietà di ottenere tutta una serie di agevolazioni locali se ci sono legate all'industria e alle industrie locali è un debito commerciale quindi non viene segnalato in centrali rischi ha dei costi chiaramente gli intermediari che lo fanno di mestiere cercheranno sempre di dare un'offerta al cliente finale che sia più competitiva rispetto a quello che il buyer potrebbe trovare localmente ci sono paesi come cil ad esempio dove i tassi di interesse locali sono molto alti si parla del 12 13 14 per cento in tutto sud america in altri paesi e quindi è chiaro che finanziarsi localmente diventa difficile ed è lì che la vostra arma commerciale di sedersi al tavolo e di dire benissimo non andare dalla tua banca locale te la troviamo noi la soluzione per comprare la nostra macchina e questo fa sì che chiaramente l'interlocutore il buyer sia più interessato ad acquistare le vostre macchine sappiate che questo mezzo di credito fornitore questo strumento viene già utilizzato da diversi paesi a germania austria altri paesi e i buyer molto spesso fanno una serie di richieste poi probabilmente preferiscono comprare da produttori stranieri rispetto ai nuovi italiani perché offrono la dilazione di pagamento ora l'opera è un'operazione credito fornitore quindi operazione che coinvolge tutta una serie di soggetti esterni coinvolge le banche perché c'è chiaramente tutta la parte della sconto trovare poi il finanziamento la parte assicurativa quindi con tutti i vari enti assicurati per assicurare il bar le dogane tutta la parte anche pubblica amministrazione comunque tutta la parte amministrativa è per questo che ci sono una serie di società che si mettono in mezzo che gestiscono di tutto dalla z perché perché l'obiettivo del produttore vostro è quello di produrre e di vendere e di consegnare l'obiettivo del vostro cliente quello eventualmente di vendere a clienti finale ma è quello di far sì che possa pagare ci sono società che lo fanno investire quindi è sempre giusto e comunque consigliato appoggiarsi a chi lo fa perché ci sono tutta una serie di problematiche che possono risultare complicate ora brevemente come funziona nel momento in cui voi produttori chiudete un contratto di vendita con il buyer straniero o anche nella fase precedente noi suggeriamo sempre al commerciale estero di sentire comunque prima già la fase e quindi di poter proporre la bilazione c'è un'offerta l'intermediario chiederà chiesti bilanci al buyer al buyer per capire la sostenibilità nel momento in cui il buyer è sostenibile quindi può essere coperto da assicurazioni che era considerata sia sul rischio paese ma anche sul rischio buyer a quel punto inizia la parte di scusate che questo computer oggi ok eccoci qua inizierà poi la parte di contrattualistica dove l'intermediario in questo caso acquista il prodotto da dal produttore lo rivende al buyer finale con markup e poi dando la dilazione di pagamento l'intermediario segue la produttore fino alla spedizione e quindi nel momento in cui si arriva alla spedizione verrà supportato il pagamento normalmente come avviene avviene alla firma del contratto c'è sempre un anticipo minimo del 15 per cento che viene girato poi al produttore e poi il dilazionato quindi l'85 comunque il restante verrà pagato alla spedizione e il buyer ottiene questa dilazione dove la prima rata verrà pagata sei mesi dopo la spedizione quindi poi semestralmente pagherà per gli anni successivi abbiamo solo qui messo alcuni alcuni piccoli aspetti di perché scegliere che vantaggi ha rispetto ad altri metodi è chiaro che per voi produttori il credito fornitore vi permette di incassare incassare rapidamente incassare di incassare la totalità della fornitura attraverso un intermediario viene semplificata completamente la parte amministrativa e la parte di shipping non ci sono rischi perché è chiaro che nel momento in viene comunque liberato è una soluzione innovativa è una soluzione che tramite un intermediario permette anche di fare una verifica della sostenibilità e della possibilità di lavorare con quel determinato buyer per l'acquirente è chiaro che ha la possibilità di ottenere una dilazione una dilazione commerciale ha dei corsi sostenibili quindi inferiori rispetto a quello che troverebbe localmente è una dilazione a medio lungo termine quindi due cinque anni non fare i corsi agli affidamenti bancari e comunque mantiene le garanzie tecniche perché è una fase importante è che comunque le garanzie tecniche rimangono sempre tra il produttore e il buyer finale adesso brevemente vediamo due esempi di come può essere nella pratica poi il credito fornitore grazie buongiorno a tutti se ci fossero delle domande chiaramente potete tranquillamente interrompermi come diceva alessandro il credito fornitore è un'operazione che ha una certa complessità è chiaramente un'operazione che si può strutturare un'autonomia ma come avrete visto nelle delle slide precedenti le parti coinvolte sono diverse e a volte complesse anche se vogliamo da gestire quando si costruisce una fornitura che magari è un impianto comunque un bene di investimento chiaramente tutta la fase di costruzione dell'operazione ha le sue complessità ma anche la fase di costruzione della condizione finanziaria per portare a casa se vogliamo i propri quattrini ha altrettante complessità che devono essere gestite il credito fornitore permette come diceva alessandro di far che cosa di concedere di fatto una dilazione appunto all'acquirente estero quindi è una leva commerciale importante in mano al vostro venditore che va però utilizzata nella maniera più accorta e adeguata possibile perché comunque nell'offrire il credito fornitore si annidano anche dei rischi che vanno in capo al produttore che decide di attivare questo tipo di leva commerciale ragione per cui esistono appunto dei soggetti che fanno questo di mestiere quindi non sono delle società finanziarie come possono essere delle leasing ma sono a tutti gli effetti delle trading commerciali che assieme al produttore costruiscono il credito fornitore quindi mantengono a favore dell'acquirente estero la trasparenza rispetto a chi è il produttore quindi non c'è un pericolo di disintermediazione della relazione tra il produttore e l'acquirente estero l'acquirente estero avrà tutti i vantaggi di avere la qualità del prodotto italiano quindi tutte le garanzie passano dal produttore del bene all'acquirente estero e in aggiunta avrà un soggetto professionale che gestirà appunto la parte di costruzione dell'operazione di realizzazione poi della dilazione di pagamento piuttosto che dello smobilizzo e la gestione delle assicurazioni ove fossero coinvolte questo tipo di di trading nella versione più semplificata che avete davanti ai vostri occhi è un'operazione prevede un'operazione in cui c'è un'azienda italiana produttrice di in bene che rivende a un soggetto italiano straniero comunque una trading la quale a sua volta poi rivende il bene concedendo appunto la dilazione di pagamento all'acquirente estero quest'ultimo si trova quindi ad avere un unico interlocutore che gestisce la parte se vogliamo economica dell'operazione e un unico interlocutore il produttore per quanto riguarda la parte tecnica dell'operazione una evoluzione di questo modello nei casi in cui ci siano coinvolte più aziende italiane quindi potrebbe essere anche un paniere di aziende sia italiane che straniere va se vogliamo mettere a leva il vantaggio di avere una trading che intermedia l'operazione questo perché l'acquirente estero si dovrà ad avere ancor di più un unico interlocutore che costruisce un'operazione di credito fornitore nei suoi confronti quindi ottiene delle condizioni standard se vogliamo di dilazione di pagamento omogenee per tutti i produttori che vengono coinvolti e invece nella relazione produttore verso la società di trading questo contratto viene definito con ciascun produttore secondo gli accorti tra la trading e ciascun produttore per cui ci potrà essere anche flessibilità rispetto alle esigenze dell'acquirente estero e le chiaramente le esigenze del dei produttori italiani che molto spesso vanno in in direzioni opposte questi sono due modelli se vogliamo base chiaramente poi le operazioni possono essere costruite e customizzate di volta in volta però di fatto è la la massima semplificazione qualcosa ci dobbiamo portare a casa se vogliamo da questa da questa chiacchierata esistono dei soggetti professionali sul mercato che fanno questo tipo di operazione noi nello specifico abbiamo fatto delle operazioni in cile si parlava prima del settore agroalimentare e non a caso abbiamo commercializzato del dei macchinari per la raccolta delle nocciole ma non dobbiamo neanche limitarci al cosiddetto bene di vestimento quindi le direzioni di pagamento che vengono concesse gli acquiranti stranieri quando parlavamo prima di 25 anni chiaramente se abbiamo dei macchinari che devono essere esportati ma il credito fornitore può essere anche utilizzato per altre tipologie di prodotto il modello è applicabile su qualsiasi tipo di prodotto ovviamente ci sono regole e limitazioni a seconda della tipologia delle richieste dell'acquirente estero sicuramente il fatto che il cile faccia parte del dell'oxe è un ulteriore valore aggiunto perché semplifica di molto tutti i processi che poi devono essere eseguiti quando si costruiscono dei crediti fornitori più articolati grazie per attenzione e rimaniamo a disposizione per delle domande chiaramente bene grazie grazie anche perché siete rimasti perfettamente per cui abbiamo ancora 15 minuti abbondanti di tempo che dedicheremo appunto ai nostri ospiti quindi invitiamo tutti a fare delle domande approfittate di questo momento live che preziosissimo perché intanto abbiamo degli ospiti che sicuramente conoscono il mercato e conoscono il tema e quindi un'occasione unica eventualmente non so volevo chiedervi rompere il ghiaccio magari volevo chiedere se qualcuno dei partecipanti ha già utilizzato il credito fornitore come si è trovato se ci fossero delle criticità che ha riscontrato ok grazie maurizio eventualmente per chi volesse rispondere anche come ho detto in apertura cliccando sul tasto alzata di mano io capisco che volete parlare e quindi vi posso attivare il microfono quindi rendiamo questo momento un po' più come dire diventa un po' uno spazio di condivisione di discussione questo ci piacerebbe ecco perché poi questi momenti nascono per anche perché non è un argomento facile semplice quindi non esistono domande sbagliate banali eccetera quindi qualsiasi cosa davvero siamo qui certo grazie grazie alessandro poi noi siamo ci siamo sempre per cui spesso ci scrivono anche dopo il webinar chiedendo approfondimenti però poi la live è sempre un'occasione preziosa allora le cose sono state stati davvero molto molto esaustivi e quindi avete già risposto alle domande o non lo so o lasciamo spazio all'immaginazione sicuramente siete stati intanto sintetici e ma esaustivi al tempo stesso che era la cosa che volevamo questi minuti abbiamo a disposizione noi rimaniamo ancora un attimo collegati perché così intanto magari se qualcuno a qualcuno viene in mente una domanda magari vi chiedo anche se potete farci anche qualche altro esempio sempre vicino una cosa che siamo siamo dimenticati e potrebbe essere interessante per i produttori che ci sono è il fatto che normalmente questa operazione appunto gestite da intermediari per quanto riguarda il produttore italiano non hanno costi da sostenere il costo normalmente viene sostenuto dal buyer quindi perché è lui che poi ottiene l'avirazione questo quindi può essere interessante per voi produttori saperlo e comunque avendo a mente che per voi non ha costi usate ancora di più come un'arma commerciale anche in trattativa commerciale con il cliente in modo da pubblicizzarlo ancora di più ecco grazie alessandro per questa precisazione sicuramente utile far maggior chiarezza sulla tematica oliver vuoi aggiungere qualcosa qualche commento anche dopo aver sentito la presentazione di alessandro maurizio che dire io sono stato particolarmente accelerato prima nella mia nella mia presentazione quindi avrei parecchie cose da dire cominciamo dal fatto che esiste un nutrito ecosistema basato sulle start up qua in gile stiamo parlando della seconda dotazione finanziaria al mondo dopo la silicon valley quindi chi magari non ha piacere di affrontare il rischio di impresa con magari con certi strumenti con certe livello finanziaria potrebbe pensare di effettuare una piccola operazione di stress test della della propria idea in un ecosistema tendenzialmente globale ma soprattutto aperto a innovatori di tutto il mondo cioè che dirti altro si potrebbero aprire varie insomma varie tematiche io credo se se con alessandro iniziamo a buttare un tema e non voglio parlare di nocciola perché è stato ampiamente esaustivo prima la considerazione e stiamo parlando di aziende che hanno 18 mila ettari di terreno coltivati direttamente indirettamente con questo prodotto su questo punto ti dico un l'operazione che noi abbiamo seguito in particolare era un'azienda italiana che ha aperto una realtà di fatto locale in cile per poi essere al traino di un nome noto mettiamola così del set che utilizza un certo quantitativo di nocciole per la sua produzione effettivamente si sono sono partiti dal nulla se vogliamo perché hanno comprato un piccolo appezzamento di terra e da lì hanno iniziato poi ad acquistare dei macchinari dall'italia chiaramente per migliorare quello che facevano la produzione efficientarla eccetera eccetera e hanno capito che alla fine era più conveniente utilizzare un credito di natura commerciale come appunto quello del credito all'esportazione piuttosto che andare in banca che localmente anche perché come sempre quando tu attivi una nuova realtà diventa sempre un po più difficile no tenere pronti pronti via degli affidamenti locali al di là di tutto e quindi hanno sfruttato questa questo strumento nella maniera mio avviso più più adeguata e più intelligente possibile ecco è molto spesso una cosa che vale la pena di ricordare quando si utilizza credito fornitore si utilizzano anche altri strumenti se vogliamo che lo stato italiano mette a disposizione no per cui la sace con le polizze assicurative piuttosto che la simens con l'intervento nel contributo in conto interessi ovvero altri strumenti che poi l'italia ci mette a disposizione o meglio mette a disposizione delle sia delle piccole e medie imprese che delle grandi imprese italiane quando vogliono esportare in giro per il mondo e ci riescono molto bene guarda in aggiunta ho avuto esperienze con delle aziende che hanno usato questi strumenti che stavi menzionando tu e hanno avuto la possibilità di far finanziare la loro partecipazione in alcune fiere cioè oltre che ad aprire dei tipici di rappresentanza temporanei nel paese di interesse e lì darsi con o iniziare a rendersi conto che vi erano delle opportunità e vi è una semplicità una volta che si è impostata una struttura ad aprire quote di mercato in paesi che apparentemente sono lontani perché io stesso lo vivo sulla mia pelle ogni volta che rientro in italia sono se sono fortunato 18 ore di aereo con uno scalo diretto comunque in europa però di fatto che hanno un ecosistema e abbiamo citato l'ox prima che garantisce determinati standard che sono indiscutibili in qualunque parte del mondo indipendentemente dalla lingua che parliamo quindi tante volte si tratta semplicemente di pianificare con un pochettino di lungimiranza magari le proprie i propri interventi o affidarsi a una realtà terza e delegare tutta quella gestione amministrativa che a noi sembra insormontabile per invece conquistare nicchie di mercato perché siamo bravi nella creatività siamo bravi in innovazione oggi questo si trasferisce si traduce in trasferimento tecnologico ma si traduce anche in senso pratico in know how che al momento gli strumenti digitali non ci hanno ancora tolto per quanto la realtà aumentata ci permetta di riparare un treno ma l'expertise che abbiamo noi nella pianificazione di un'autostrada e lo vediamo con le varie società di costruzione che operano nel mondo o che costruiscono ponti in asia autostrade negli stati uniti o hyperloop negli emirati arabi di fatto c'è una componentistica italiana in tutto questo sempre e comunque quindi quello che dico alle aziende tante volte di non vedere noi o comunque non vedere l'america latina come un posto così lontano ma di iniziare a rendersi conto che se esistono degli standard di qualità amministrativi esiste una ragione che quindi questo paese ha bisogno ha bisogno di tanta di tanta tecnologia di tante expertise straniera e quindi di utilizzare questa carenza di tecnologia e utilizzare appunto questi strumenti per la commercializzazione e venire a scoprire un po' cosa c'è da quest'altra parte ecco Grazie Oliver, scusatemi inserisco perché c'è una domanda un pomeriggio volevo chiedere quali sono i costi legati ad un'operazione di credito fornitore sì allora i costi come anticipato prima per quanto riguarda il produttore italiano il costo non c'è nel senso che lui una volta che ha definito il prezzo di vendita con il buyer la società l'intermedia acquisterà al prezzo che lui ha concordato quindi a lui non ha non ha costi chi sostiene i costi è il buyer e i costi derivano da diversi fattori in primis il costo assicurativo quindi nel momento in cui si va a studiare il buyer si trovano i bilanci si guardano i bilanci si chiede al mercato assicurativo una quota quello sarà uno dei costi che va valutato dopodiché c'è chiaramente tutta la struttura dell'operazione quindi il costo del denaro che chiaramente in questo periodo non sta aiutando per nulla e poi per il credito fornitore per le dilazioni medio e lungo termine si applica un tasso che si chiama CIR che è fisso e che viene infatti deciso dall'Ocse quindi tutti i paesi che fanno parte dell'Ocse ed è un tasso che varia ogni mese pubblico quindi quello è il tasso tutto questo pacchetto poi porta al full cost finale che sarà quello che il client finale pagherà cioè i costi su specifici paesi è difficile farli come previsioni nei momenti in cui c'è un'offerta commerciale c'è poi un buyer, una trattativa lì si può poi analizzare chiaramente come abbiamo detto all'inizio deve esserci un vantaggio dal punto di vista economico del buyer e quindi sarà fondamentale rimanere sotto le quote che sono poi i finanziamenti locali ecco questo integro la risposta che ha dato Alessandro chiaramente nella misura in cui si costruiscono operazioni come intermediari diversamente tutto l'onere della costruzione del prezzo a favore del cliente e i rischi che vogliamo connessi a una corretta preventivazione della polizia assicurativa se c'è del costo del denaro a medio termine piuttosto dei costi di legal opinion per costruire l'operazione rimangono nel perimetro del fornitore chiaramente se lui è diciamo in grado di fare queste valutazioni e si assume di conseguenza tutti i rischi i costi li ribalterà in qualche modo nel prezzo che farà il cliente diversamente si prenderà il rischio che ha fatto una stima ma che questa stima poi al momento del completamento dell'operazione che vuol dire dopo la spedizione si sia rivelata corretta o meno corretta con un rischio di abbattimento del margine commerciale giustissimo perfetto che ha fatto bene a intervenire perché chiaramente i costi non li sono se c'è un intermediario chiaramente al produttore questo non costa ecco bene spero che la nostra la persona che ha fatto la domanda insomma sia soddisfatta della risposta immagino di sì abbiamo ancora poco più di tre minuti a disposizione e ne approfitto anche per ricordarvi i prossimi appuntamenti in calendario in particolare avremo il 28 marzo qua sulla sede di Monza un'iniziativa in presenza quindi vi aspettiamo qua è rivolta alle aziende di Milano, Monza, Abrianza e Lodi perché parleremo del bando connessi in quanto ci sono ancora dei fondi disponibili su questo bando messo a disposizione appunto della Camera di Commercio di Milano, Monza, Abrianza e Lodi e supporta proprio i processi di digitalizzazione delle imprese quindi molto interessante dopodiché avremo questo intervento sul Made in Italy e Oriente qua avremo anche tra gli ospiti tra gli speakers comunque un importante vettore che gestisce i trasferimenti aerei idem per quanto riguarda il 16 marzo parleremo invece dell'altra emisfero del paese e poi un intervento invece formativo sulla bolletta doganale questo appunto è il calendario una fotografia di quelli che sono i prossimi eventi ma ne stiamo inserendo altri sempre sul mese di marzo a questo punto io ringrazio i relatori insomma più che relatori mi piace chiamare persone che fanno parte un po' del nostro network che arricchiscono sicuramente questi momenti per averci portato un contributo in termini di contenuto un aggiornamento sul mercato Oliver poi tu fai parte della rete camerale che è del commercio italiana all'estero e quindi siamo sempre un po' connessi su su quello che succede e sulle opportunità per le imprese a questo punto io chiudo la trasmissione un saluto a tutti e grazie ancora grazie grazie a voi grazie arrivederci arrivederci grazie a tutti